Ciao a tutti, oggi prepareremo i fusilli primavera. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fave fresche, piselli, fagiolini degli pezzetti, fusilli, olio evo, acqua, sale, scalogno, pomodorini tagliati a metà, prezzemolo, pepe e pecorino in scaglie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello, mettere le fave, i piselli e i fagiolini. Chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le verdure sono cotte, passarle sotto l'acqua fredda e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale, adesso cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Nel frattempo mettere nel boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere i pomodorini, il sale, il pepe e cuocere per 4 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. versare nella ciotola con la pasta, amalgamare bene e condire con scaglie di pecorino e prezzemolo tritato. Fusilli primavera! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!